sul sul simmers e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozzo berry challenge bentornati e bentornate dai rainbow e siamo in questo lotto molto molto carino realizzato da petra 55 che come avrete dedotto dalle immagini è un lotto di sulani e voi vi starete domandando ma che cappero ci facciamo a sulani tra l'altro con sti due ebbene non è stata certo una loro idea ma è stata un'idea della nostra prudence soltanto che non è proprio il momento migliore forse per venire a sulani questo che dite sempre splendida tra l'altro anche con la pioggia ma sì qui piove addirotto i nostri sono appena arrivati con l'aereo perché appunto la nostra pru ha pensato di organizzare un weekend fuori porta vedete che sono già le 17 perché comunque per arrivare qui a sulani è stato un bel viaggetto da dove si trovano i nostri all'università però appunto ha pensato di dire la sessione nuova sta proprio per cominciare o è appena cominciata tra l'altro anche lei si è laureata cioè si è laureata scusate ha superato la sessione con a più mentre la nostra gio con b meno un po' come è successo al caro remulf la prima sessione sebbene abbia fatto fare tutto anche a lei è anche di più poveretta perché lei per la prima sessione ha seguito 4 corsi invece di 3 però ahimè raga non lo so è uscita con b meno al di là di questo non ci interessa è stata coinvolta anche prune in questa avventura perché sapete che comunque diciamo la migliore amica di prudenza quindi se la porta praticamente ovunque se ovviamente lei accetta di di unirsi al gruppo e quindi sì perché invece di stressarci sempre solo sui libri che c'è rifiutiamo remulf ha appreso che joe si sta laureando in belle arti presso università di braychester ebbene sì sta chiacchierando un po' con lei mentre il nostro appunto saluta la sorella la cugina poi toccherà anche a lui ovviamente fare i suoi saluti però insomma intanto sta come al solito il nostro intrattiene il gruppetto ed eccoci qui la nostra ha pensato invece di stressarci no è vero deve iniziare una sessione nuova sta per iniziare o è appena iniziata però ci vuole un po' di stacco una pausetta ogni tanto perché non facciamo un weekend fuori porta e quindi perché no sebbene siano già le 17 del sabato perché ovviamente le ho fatti studiare prima non tutti ma l'erede deve studiare sapete che lui è proprio quello che si è bevuto alcuna pozione tra l'altro raga perché non vi dico come era conciato vedete lui ha fatto tutto può starsene tranquillo ovviamente giocando con lui ho permesso anche al nostro di fare quasi tutto ha finito i compiti ha scritto la tesina non l'ha consegnata perché mi sembra fosse ancora normale e deve fare una presentazione ma ho pensato comunque che potrebbe lavorare anche qui un pochino quindi perché no e quindi i nostri sono arrivati ah e quindi hai deciso di dedicarti alle arti bello bello sì tesoro molto bello però dico amichevole affetto abbracciala perché insomma non vi vedete da un po' sì dai invece di stare lì sempre a scelverlarti insomma io mi sento un po' un robot a dire il vero sai un po' impanciata perché non vi conosco poi così tanto ma ho accettato l'invito di pru perché è stata molto gentile a invitarmi ma hai portato insomma anche la tua la tua la tua compagna di distanza e lei sembri un disco inceppato eh sì un disco inceppato ma ma che dici ma ti metti a disagio beh non la conosco è questo credevo saremmo stati fra di noi come avevi detto tu eh però dai ora vai a salutarla lascia stare tua cugina si è già data lui verrà qui e sì comunque si sente in soggezione davanti a lei un pochino quindi complimentati per l'abito ehi come va ottima idea sai che sono d'accordo a queste io fosse per me scapperei un giorno sia l'altro pure dall'università sì va bene sappiamo come la pensi tesoro ma non è proprio il caso secondo me la cugina non la vedremo praticamente mai durante questo weekend però ehi proprio un perfetto outfit da mare eh oh che dolce come un muffin eh sì tesoro ehm in realtà non è proprio l'outfit perfetto da mare questo ma tu insomma si sa ehm che sei un pochino no particolare guardate i peli lei proprio è così come la vedete raga non ce l'ha anche sulle gambe no sulle gambe no è pelosina di braccia lei però chi se ne frega lei non è che si fa tanti problemi ah ehm quindi vediamo un attimo eh racconta una storia coinvolgente tu sei mai stata a sulani e sai dovrebbero chiamare la polizia perché io di solito non mi stacco mai dai libri dagli impegni universitari però vabbè avevo finito tutto quello che dovevo fare quindi mi sono detto infilzati con un braccio nello stomaco no vediamo magari sai scopriamo qualche fossile sei fissato ultimamente con i dinosauri tesoro si vede che ti mette in soggezione un po' la nostra Jo sì beh io non ci sono mai stata tu quindi ci sei stata no beh io sai mai proprio perché come ti dicevo vivo sui libri praticamente però mi è sembrata un'idea carina no quindi a te è sembrata un'idea carina magari potremmo fare delle ricerche per vedere cosa c'è da vedere qui a Sulani beh con la pioggia credo ben poco non credi anche tu lei lo guarda e tra l'altro raga realizza solo adesso che non l'aveva mai visto in volto perché lui indossava la maschera e guardate come lo sta fissando del tipo wow che bel tipo sì è proprio decisamente da wow che bel tipo la nostra in questo momento eh è affascinante decisamente è affascinante quindi beh tu non lo so hai fatto ricerche prima di venire qui magari sei più Josephine sei più informata di me oh ma chiamami Jo c'è tutta questa formalità lei è il classico tipo secondo me che quando si sente in imbarazzo esagera con i comportamenti invece magari il nostro inizia a balbettare inizia un attimino così no secondo me ora lui a lei dirà dirà raga perché figuriamoci se Remulf si tiene che Pettegolezzi condividi un segreto e dirà assolutamente non lo vedi che tuo fratello è pallido come un fantasma e lei ma io l'ho visto un po' strano ma cosa succede? vabbè non ci crederai ma credo abbia una cottarella Natsume? e per chi scusami? lei è sconvolta raga cioè se le dicessero devi lasciare l'università perché sei stata bocciata la prenderebbe meglio secondo me ma come Natsume una cotta? ma di chi? cioè con chi? chi? chi è? beh la tua compagna a distanza cosa? io non ti ho detto niente ok va bene abbiamo capito possiamo andare a cercare quella poveretta che qua intanto raga sta andando tutto in malora perché ovviamente con la pioggia potete immaginare dov'è tua cugina? vostra cugina? che fine ha fatto? riusciamo a capire dov'è? tra l'altro io raga ora voglio farvi vedere questo lei è qui quindi cerchiamo di raggiungerla in qualche modo perché poverina mi sembra di averla trascurata finora allora vieni qui amichevole facciamo affetto abbraccio affettuosamente lascia stare lei e vieni a salutarla questo è il lotto è veramente molto ma molto carino carino tra l'altro devo stare attenta perché devo proteggerli tutti non vorrei mai venissero colti da un fulmine partiamo dai piani bassi diciamo no? qui c'è la possibilità di prendere il sole ma al momento a noi non ci riguarda abbiamo tutto il necessario vedete qui che meraviglia anche per avere un po' di vita da spiaggia no? bellissimo da questa parte abbiamo la zona mensa chiamiamola così dove appunto i nostri sim possono ordinare qualcosa no? prepararsi pop corn gelati veramente molto molto carino invece da questa parte come avete già intravisto c'è un bar un barettino si può giocare ci si può sedere a fare quattro chiacchiere insomma devo dire mi piace molto al piano di sopra quindi si sale e c'è addirittura una piccolissima spa qui vabbè si può usare sto attrezzo qui poi da questa parte come noterete si può prendere il sole ma anche chiacchierare bellissima questa no? passarella passarella mi vorrebbe di chiamarla dove si può appunto sorseggiare anche qualcosa fare anche non lo so boh festicciole la trovo carina molto molto carina come è stata strutturata da questa parte si può dipingere quindi guardate che carino molto molto devo dire qui stessa cosa insomma del lato di questo lato e qua sopra c'è la parte ovviamente all'aperto diciamo no? ci si siede sempre si può chiacchierare si può grigliare insomma si possono fare un po' di cosine peccato per il clima in realtà perché ahimè dovranno stare praticamente quasi sempre qui al chiuso quindi fortuna che c'è un tavolo con cui poter giocare perché altrimenti io non so cosa avrebbero fatto questi poveretti dall'altro ti sei vedo già cambiato si ti sei cambiato ok vai vai beh io entrerei che dite non vorrei che ci cogliesse un fulmine ok va bene perfetto quindi portale tutte all'interno mi raccomando vai qui insieme qua sotto c'è qualcos'altro no sono i i piloni diciamo vieni qui anche perché vorrei che ma che ti metti gli occhiali da sole che sta piovendo vabbè lasciamo stare onora al sudore gradisce la forma fisica sì lui sì ma perché dove è andato ma perché cosa stai facendo cosa state facendo certo il modo migliore per entrare era questo va bene la nostra si è messa in costume magari ci cambiamo che dici tesoro non indossiamo questo di costumino ma ci mettiamo guarda ti faccio vedere indossiamo indossiamo per il momento questo ok eccola qua l'hai trovata Natsume ti prego è qui vieni ad abbracciarla affettuosamente è tua cugina non sarebbe stato meglio restare a casa a guardare una partita di baseball vero oh ma che bello cuginetta ritrovarti eh sì lui ovviamente sempre con un occhio buttato su sulla nostra Joe però ti prego veramente non indossare gli occhiali da sole non è proprio necessario che bello vederti tra l'altro non mi sono resa conto che ho messo lo stesso cappellino perché lei ce l'aveva poco fa è veramente un bel posto lei intanto si guarda intorno ok sapete che lui è l'intrattenitore facciamo propone un piano folle non è stato folle venire qui con questo tempo ragazzi e ora ci siamo persi Prue dov'è Prue Prue io veramente raga sarà un'impresa dov'è Prue tutti qua dovevano venire non era difficile eppure ce la siamo persa cosa starà mai facendo la nostra Prudence io non lo so ma vorrei tanto che ci raggiungesse perché non la riesco a vedere sta cosa mi fa venire l'ansia allora facciamo poi ce l'hai tu il controllo del gruppo quindi facciamo che azioni sciogliamo il gruppo dopodiché lo creiamo di nuovo e Prue non c'è più ma come Prue non c'è ma io veramente raga ma non ho parole ma per quale motivo Prue oh santa pace Prue invita nell'otta attuale ma che fine hai fatto ma io me la sono persa raga non saprei unità familiare no e lei deve essere da queste parti allora facciamo una bella cosa bello e capito perché altrimenti qui non se ne esce entra in un club crea un club che chiameremo aspetta chiameremo così momenti di libertà perché ovviamente per lui questi sono momenti di libertà solo su invito e andremo a inserire Joe Prune Remulf ovviamente e se la trovo Prue non posso inserirla mannaia la mannaia allora aspettate proviamo a inserirla nel club dei cugini togliamo un attimo Prune perché altrimenti me la ritrovo qui scusami tesoro e inseriamo soltanto Joe bello e capito si può iniziamo il raduno perché altrimenti qui non ne usciamo sperando che ci raggiunga molto presto mi ha fatto strano ricevere questo invito a dire il vero si vedi c'è sembra quasi che qualcuno ci abbia come dire abbia utilizzato sai l'arma quella lì degli alieni per lobotomizzarci il cervello perché come cavolo si può avvenire qui con questa pioggia beh non è che sapevamo che pioveva così tesoro ora datti una calmata cerchiamo piuttosto di divertirci sempre che Prue pianifica un soggiorno temporaneo che vuoi cambiare no beh addirittura trasferirti mi sembra un po' un'esagerazione tesoro il gruppo è attivo vero cioè il club dico il raduno è attivo ora se troviamo Prue io non lo so perché me li devo sempre perdere raga non capisco comunque il nostro ora proporrà di giocare quindi gioca a carte con e non c'è Prue io veramente non riesco a capire Prue che fine ha fatto perché non la calcola proprio nonostante il raduno del club Natsume prova tu tesoro gioca a carte con va bene raga io direi che il nostro proporrà una partita a carte a Prune perché vuole strategicamente lasciare solo il caro no Natsume immaginiamo che la nostra Prudence raga sia andata a fare un'escursione sia andata a spizzarsi su lani perché altrimenti io veramente non ho parole che c'è perché ora non vi potete accomodare qua allora sediti insieme ce la fate a fare questo basta charlie forza sediti insieme qua vi dovete sedere oh raga vi giuro non è una cosa difficile fermo adesso non ti azzardare gioca insieme facciamo questo guarda va bene lo stesso lasciala stare magari all'inizio oh è diventata buona amica di Natsume Natsume unisciti vai sediti qua plumbob va bene si sei uscito con questa amicizia sono felice per te gioca vai quindi vogliamo proprio fare questa sfida vi avviso sono molto forte eh si Natsume lo sappiamo insomma potrei toglierlo anche senza guardare effettivamente hai ragione tesoro ma porca pera ma quest'uomo riesce a fare tutto io non ho parole ha smesso di piovere vero uh che bello tra poco bagno eh raga tra poco bagno peccato che qui non c'è un posto per dormire cioè se avessero fatto anche un piano dove potevano riposare sarebbe stato proprio il top del top questo posticino qua è vero anche che possono dormire all'aperto insomma sonnecchiare lì andare avanti a pisolini diciamo però vabbè vediamo un pochino come va la sfida guardate lui non le toglie gli occhi di dosso cioè lui la sta fissando tantissimo eh allora sono non sono bravissimo chi l'ha fatto cadere tu oh cappero credo di aver perso tesoro qualcosa mi dice che si hai perso ma così è proprio sai distinto mi verrebbe da dire allora io volevo allontanarmi con questi due in realtà perché appunto no il nostro voleva cercare di distogliere l'attenzione proviamo a fare una cosina adesso cambia gioco facciamo il puzzle lui propone ma perché non cambiamo gioco e facciamo un bel puzzle eh anch'io potrei togliere questo pezzo di legno d'occhi chiusi ma dai cambiamo va bene quindi scegli un puzzle facciamo un puzzle di 500 tasselli perché deve tenerla inchiodata qua e lui farà un puzzle fantasy negli abissi di sulani mi sembra l'ideale dai ma non puoi unirti no volevo chiedere se poteva unirsi allora aspetta un secondo perché magari lo possiamo fare se smetti un attimo interrompiti un secondo questa fa attività fisica raga non ho parole fermati un secondo allora no posso lo riprendere e vabbè riprendi dai vediamo se il nostro riesce come dire ad attirare qui la nostra ragazzuola andiamo qui vai qui e la chiami dai ti va ti va di venire a vedere un po' il paesaggio eh si noi ci proviamo ma è dura raga quando non si gestiscono i sim è dura questa poi tra l'altro ma che fa ma perché chiacchiera proviamo a vedere se chiedi della sua giornata ma sarà lui a tornare dentro adesso io invece volevo portarli qui vabbè che potremmo andare anche sulla spiaggia vai qui vai qui lascia fare tu vai lì dammi retta muo devi nuotare di nuovo ma perché quando si può passare da qui perché qui non hanno messo la scala mannaia allora vai lì ti prego e la chiami da te qui dovresti riuscire a chiamarla chiama da te perfetto intanto prudenza non lo so raga che fine ha fatto ma dai ma che sfiga ma io io non ho parole veramente questa se non è sfiga non saprei come altro definirla comunque vieni qui dai ti ha chiamato ormai vieni qui sempre che tu decida di raggiungerci perché io oh sta arrivando raga peggio di un parto forza tesoro facciamo amichevole chiacchiere chiedi della sua giornata peccato che sia un po' rovinato questo posto sarà stata la pioggia beh lui è sì certo sarebbe stato meglio venire qui con il sole però dai non trovi che sia comunque suggestivo questo posto beh sì devo dire che mi piace chiedi del corso di laurea perché lui sa ma immaginiamo che sia sia una domanda del tipo allora come procede lo studio ciao 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 ciao